In archivio l'ultima giornata del girone d'andata del 2019, bellissimo il derby di Selvapiana tra Campobasso e Vasso Girardi, una partita assolutamente godibile con 5 reti realizzate ed un ottimo livello di gioco. Avvio forte dei lupi, capaci di realizzare due volte tra il quinto e il sesto minuto, prima Pistillo poi Zammarchi per un 1-2 che poteva mettere cappa a olia al Tomolisani. Al contrario, gli uomini di Farina hanno dimostrato un'ottima tempra con un rilassamento collettivo da parte del Campobasso. Veemente la reazione del giallo-blu, con il rigore realizzato da Chiere Mateng, 11 centri per lui al giro di Boa, ed il colpo di testa di Mikhailovsky. Ripresa in equilibrio, rotto però dal gol di Cogliati che ha deciso poi l'incontro. Campobasso in grande spolvere, con un Cogliati ancora una volta in versione super, 8 gol per lui in 9 giornate ed un'incisività sul cambio di passo della squadra assolutamente decisiva. I lupi vanno in pausa con un quarto posto a due lunghezze dalla Re Canatese e a tre dal Matelica, vicine in graduatoria al contrario del Nogaresco a più 12 ma reduce dalla sconfitta di Fuggi. La sconfitta proprio di Terramani è sicuramente la notizia più importante della diciassettesima giornata, non peraltro perché il Nogaresco non perdeva dalla prima giornata quel 3-5 rifilato dal basso Girardi, che alla ripresa del campionato il 5 gennaio riceverà proprio gli abruzzesi al Civitelle per la prima di ritorno. Tornando al Campobasso, una classifica diversa che lascia sicuramente sperare per il girone di ritorno in un'impresa, perché no? Abbiamo riferito la scorsa settimana di un pensiero diffuso nella piazza rivolto alla rincorsa al primo posto. È ovviamente presto per questi pensieri, certo oggi c'è una speranza in più con la possibilità di credere in qualcosa che sembra impossibile. Attenzione però, anche il Matelica ha cambiato passo con le stesse vittorie del Campobasso consecutive, esattamente 5. Detto questo, nella pausa sono attesi i movimenti di mercato, la vittoria nel derby ha dato sicuramente nuova linfa a tutto l'ambiente a partire dalla società. In primi su un centrocampista, anche perché in mediana, numericamente Cudini ha gli uomini contati e poi in difesa potrebbe arrivare un elemento. Vedremo in questi giorni, di certo l'aria che si respira è sicuramente diversa rispetto a quella di due mesi fa. Il Vasto Girardi va in ferie, per così dire, con un più 5 sulla zona play-out. Un bottino importante, quello maturato nel giornale d'andata dagli uomini di Farina. Se la media salvezza si aggira intorno ai 40 punti, ecco che agli altomolisani serviranno 18 punti nel ritorno per mantenere la categoria. Un percorso assolutamente possibile per una squadra che ha divertito e giocato alla grande, prima di accusare una piccola flessione assolutamente preventivabile. Anche qui attesi i movimenti di mercato, in particolare in attacco dove l'assenza di Varsi si sta facendo sentire. Pareggio casalingo per l'Olimpia nionese contro il Porto Sant'Elpidio. Dal possibile successo si è passati alla possibile sconfitta nel mezzo il giusto compromesso del pareggio. Insomma il 2019 non si è chiuso con un successo, ma tocca guardare il bicchiere mezzo pieno per il rigore fallito da Maio in zona Cesarini. Peccato perché si poteva allontanare ulteriormente la zona play-out contro una diretta concorrente per la salvezza. Detto questo, sei punti di margine, non sono pochi. Certo la squadra Granata nel 2020 dovrà in tutti i modi cercare di chiudere le gare. Anche domenica in più occasioni Acosta e compagni sono andati vicini al gol del raddoppio. Peccato perché la vittoria era alla portata, ma come detto prima il punto non è assolutamente da buttare. Anzi, periodo di sosta si ripartirà da Montegiorgio il 5 gennaio per un'anionese che sarà praticamente senza difesa. Infortunato Frabotta, per lui difficile il recupero, considerata una frattura alla spalla e gli squalificati Ciampi e Allegra. Il primo è spulso, il secondo ammonito e già in diffida. Ci sarà tempo per programmare la trasferta contro il Montegiorgio. Ora la società può godersi la sosta con spirito positivo ed una classifica che permette serenità in vista della ripresa dei giochi.